un pistolero solitario in cerca di vendetta sette anni fa il mio socio e io compimmo una rapina in una banca una sorpresa che cambierà il suo cammino mia madre ha detto che il tuo nome è tio clay gregory becca poniamo che ti dica dove puoi trovarlo tu vuoi che fai pago te e uccidolo un classico di harry hathaway il solitario di rio grande sabato 21 e 15 rete quattro